Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale raccontandovi una storia, una brutta storia di violenza subita da un giovane di 33 anni di Lucrezia di Cartoceto, altra sera a Lido di Fano, da parte di un gruppo di giovani. A scatenare la ferocia del branco è stata una storia, una storia tra un ragazzo ed una ragazza finita male, così come ci racconta in questo servizio Simona Zonghetti. Frattura del setto nasale, una ferita al sopracciglio sinistro e una prognosi di 30 giorni. Chiede giustizia a Domenico D'Assoro, 33 anni di Lucrezia, aggredito e picchiato a Lido di Fano da un gruppo di ragazzi originari di Torre Annunziata, che il giovane conosce bene. È accaduto nella notte fra sabato e domenica scorsi, intorno a Luna, quando era in compagnia della sua fidanzata ed alcuni amici. Domenico, sei ancora molto scosso. Che cosa è successo? Allora, sì, sono scosso perché comunque sabato sera, ovviamente con le nostre amici andiamo comunque in una cornetteria che costeggia la capitaneria di Porto. Prima di entrare abbiamo incontrato il nipote della mia compagna, il quale senza un motivo mi ha messo le mani addosso. Ovviamente io sono intervenuto, sono intervenuto per calmare la situazione, ma ovviamente il nipote continuava. Domenico reagisce, lo spintona e gli grida di andarsene, ma a quel punto, secondo il suo racconto, uno di loro gli si scaglia contro e lo prende per il collo. Lui cerca di difendersi e lo getta a terra, poi arrivano gli altri quattro del branco e lo prendono a pugni. Tutti addosso a me, quattro persone addosso a me. Fortunatamente c'era il mio amico, il quale comunque si è messo da spartimuro, una cosa scioccante. A scatenare l'aggressione sarebbero stati motivi passionali. Uno di quei giovani, infatti, avrebbe avuto una relazione con la figlia ventenne della sua compagna. Nonostante tutto, Domenico ha deciso di non allertare le forze dell'ordine e di tornarsene a casa. Ma una volta arrivato al parcheggio, vicino alla pizzeria Florida, è stato circondato da una decina di persone. E prima che potesse accorgersene, è stato colpito di nuovo con un altro pugno in faccia. Il cazzotto, sferrato sopra l'occhio sinistro, gli ha procurato una grossa emorragia. Ancora oggi, nell'area di sosta, le tracce di sangue sull'asfalto. Io sono stato minacciato di morte da dieci persone. Per fortuna il 33enne è stato soccorso dai militari dell'esercito in servizio di vicino, che dopo aver calmato gli animi, hanno chiamato i carabinieri e il 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso. Quel ragazzo ha ammesso pubblicamente davanti a un pubblico ufficiale che era stato lui a darmi il cazzotto. Le indagini delle forze dell'ordine proseguono, mentre per Domenico è stato scongiurato l'intervento chirurgico a setto nasale ipotizzato in un primo momento. Resta la paura di ricevere nuove ritorsioni. Poteva andare a finire peggio, molto, 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 molto peggio. Io le scuse non le voglio, non voglio dire niente a queste persone, ci penserà chi di dovere e basta. Il sindaco di Pesaro ha emesso un divieto temporaneo di balneazione nell'area della foce del torrente Genica, delimitata 80 metri a nord e 80 metri a sud della foce. Il divieto fa seguito alle piogge dei giorni scorsi ed è a scopo precauzionale. Verrà revocato se le analisi effettuate dall'ARPA registreranno valori conformi. Allarme siccità nel canale Albani di Fano, un problema che si ripete ad ogni stagione estiva. Una moria di pesci è già stata segnalata all'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Fano, il quale ha già preso contatti con la società Enel Green Power, che è proprietaria del bacino idrico, per consentire la rimozione degli animali morti e garantire un minimo di condizioni di vita per quelli che ancora li vivono. Oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco, queste sono le immagini a cui si riferiscono, appunto sono stati allertati dalle guardie ecozolofile di Pesaro e Urbino e sono intervenuti per prelevare alcuni animali agonizzanti. Molte anetra infatti sono morte diventando cibo per i topi. La situazione potrebbe migliorare nei prossimi giorni con l'arrivo di nuove e abbondanti piogge. Enrico Ruggeri riceverà domani dal Comune di Mondolfo la cittadinanza onoraria. Proprio a Marotta, infatti, il cantautore scrisse una delle sue canzoni più celebri, Il mare d'inverno. La cerimonia avverrà con una seduta consigliare straordinaria alle ore 18. Ladri in azione al bar della stazione intorno alle 12.30 durante l'orario di chiusura. I malviventi sarebbero entrati forzando la porta d'ingresso utilizzando un grosso cacciavite o un arnese simile, ma pare che non siano riusciti a portare via nulla. Nessuno, anche tra i commercianti che hanno i locali nelle vicinanze, si è accorto di nulla. Forse qualche indizio in più potrà arrivare dalle immagini a circuito chiuso delle telecamere. Dal 14 al 16 di agosto il Centro Storico di Urbino torna indietro nel tempo per celebrare la 34esima edizione della Festa del Duca con mostre, giochi, spettacoli rinascimentali e teatro di corte. Dal 14 al 16 agosto Urbino, città patrimonio dell'UNESCO e fulcro del Rinascimento italiano, vestirà nuovamente i preziosi abiti di corte per la 34esima edizione della Festa del Duca. In un fine settimana ricco di spettacoli rinascimentali, teatro di corte, musiche e danze quattrocentesche, mostre, laboratori e tanto altro ancora per ricordare lo splendore del Monte Feltro. L'intero Centro Storico tornerà indietro nel tempo per far rivivere la quotidianità quattrocentesca. Rigorosamente in costume ed epoca le truppe del Signore del Monte Feltro per i vicoli e le salite del centro dove si esibiranno colorati sbandieratori di Sansepolcro, musici con ghironde e danzatori in coreografie rinascimentali mentre il corteo storico accompagnerà verso i momenti centrali della festa. Per noi la Festa del Duca è un pretesto per evocare tutto il ricco lascito culturale e dell'artigianato artistico che nel nostro Monte Feltro e anche nel Monte Feltro Storico perché ci sono artisti che arrivano da una zona estesa non soltanto qua della nostra provincia ma anche da Rimini, da tutto quello che era il Monte Feltro Storico. Quest'anno, vista l'enorme affluenza dello scorso anno, l'amministrazione ha voluto puntare forte su questo evento centrale nell'estate orbinate, raddoppiando l'offerta di spettacoli e intrattenimento. Questo è un appuntamento delle mese d'agosto più importante. L'anno scorso ci sono stati flussi di presenze che hanno sfiorato gli 80.000 visitatori e quindi quest'anno abbiamo spalmato tutti i mercati storici nella città quindi per offrire ancora di più al turista e catturarlo, impressionarlo con la speranza che poi ritorni ad Urbino. Cuore della manifestazione è la rievocazione storica dedicata all'ingresso del Duca Federico nell'Ordine della Giarrettiera, la più alta carica inglese avvenuta nel 1474. Da alcuni anni noi come associazione abbiamo preso come punti di riferimento delle nazioni ospiti. Quest'anno è stata scelta l'Inghilterra perché, molti sapranno già, nel periodo di Federico da Montefeltro l'Inghilterra con l'allora signoria d'Urbino ha avuto dei grandi rapporti che si sono protratti anche nel tempo con soddisfazione da entrambe le parti. Alcuni telespettatori ci hanno segnalato queste chiazze bianche galleggianti nel porto canale subito dopo la liscia, ironizzando c'è addirittura chi ha scritto che qualcuno si è messo a lavare le barche e le ormeggiate. Per capire di che cosa si tratta abbiamo il collegamento telefonico Adar Omiccioli che questa sera facciamo intervenire in diretta nel nostro telegiornale non tanto come politico ma come biologo. Infatti Adar Omiccioli è laureato in biologia. Allora buonasera Adar. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Bene, allora lei ha visto le immagini, le fotografie. Ci può dire di che cosa si tratta e soprattutto rassicurare? Sì, sicuramente è un fenomeno del tutto naturale, anche tipico di questi periodi dovuto al rimescolamento delle acque che sono molto cariche di sostanze organiche trasportate oltretutto da varie emissioni naturali soprattutto anche in considerazione dei forchi temporali che si sono avuti ieri e nelle giornate precedenti. Questa sostanza organica deriva principalmente dalla degradazione delle macrofite sono delle famiglie di piante acquatiche che in questo periodo terminano il loro ciclo vitale di conseguenza muoiono e vengono decomposte. Questa decomposizione produce soprattutto i cosiddetti acidi umici che contribuiscono in modo naturale quindi poi alla formazione della schiuma. Ma anche per i non esperti è facile riconoscere questa schiuma se sia di origine naturale o no perché quella appunto naturale come quella che ho visto nelle immagini ha un tipico colore bianco, a volte anche giallino fino a marroncino. e ha un odore tipico di terra o di pesce se la formazione della schiuma è soprattutto dovuta alle alghe. Mentre la schiuma artificiale ha delle bolle con schiuma che assumono una colorazione tipica dell'arcobaleno e hanno un tipico odore di detersivo, di profumo. Quindi insomma anche per chi non è esperto saper riconoscere un tipo di schiuma naturale artificiale è abbastanza semplice. Mi pare di capire Omiccioli un po' quello che avviene quando piove sull'asfalto dopo tanti giorni di siccità insomma. Esatto, si accumulano diciamo sostanze organiche che degradandosi velocemente, rimescolandosi però con questa schiuma del tutto naturale. Grazie ad Adaro Omiccioli per questo suo intervento. Mercoledì 12 agosto si terrà la visita guidata a Fano da scoprire, articolata fra scorci cittadini, monumenti e luoghi solitamente poco accessibili. Si passerà dal Teatro della Fortuna ad alcuni chiostri al Bastione Sangallo, riaperto di recente. L'appuntamento è previsto alle ore 21 in piazza 20 settembre ma sarà necessaria la prenotazione ai contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione. Il costo della visita guidata è di 5 euro a persona. E adesso collegamento con Montecucco a San Giorgio di Pesero per Grigliate in Festa. L'evento che per tre giorni celebra le nozze tra due grandi prodotti marchigiani. L'olio extravergine d'oliva ma soprattutto la carne. Vedo Lino Balestra già sul posto con uno splendido tramonto alle spalle. Sì, buonasera da Montecucco. Qui mentre il sole sta calando ci sono già tantissimi avventori che stanno giungendo qui per Grigliate in Festa dove la carne regna sovrana, regna sovrana la carne di alta qualità per mano e per opera di una famiglia intera, la famiglia Roberti che si dedica da tantissimi anni all'allevamento della carne bovina d'eccellenza e naturalmente poi la fa degustare nel ristorante che loro hanno e che chiaramente celebra un po' l'apoteosi in questo periodo. Allora io li ho qui vicino a me, sono figure ormai conosciute da tutti i fanesi e non perché siete presenti in tante manifestazioni. Ormai da tanto tempo venite infatti da una manifestazione di Fano, i quattro cantoni dovevate un punto vicino al Pinobar. Sì, colgo l'occasione anche per ringraziare tutta la gestione, in particolare Leo del Pinobar che quest'anno è stato proprio lui che è stato dietro per organizzare, per fare tutto. Gli ringrazio tanto, a parte l'amicizia che abbiamo, ma sono delle persone squisite. Sì, per quel che riguarda la festa, sì, siamo qui, sta andando bene, siamo andati bene, nelle sera ha piovuto, però domani sera la rifacciamo, quella di ieri sera. E la gente risponde anche bene, sì. E quando c'è la qualità e quando ci sono i prodotti d'eccellenza, voi da tempo avete sposato questa filosofia di valorizzare il territorio e di portarlo ai massimi livelli nei prodotti che dà. Allora domani sera, noi lo ribadiamo, c'è un'altra serata che è stata procrastinata per il maltempo di ieri e quindi insomma chi vuole usufruire di una giornata in più addizionale per gustare la carne può venire. Sì, domani sera vi aspettiamo. Nel locale da ballo abbiamo l'orchestra di Stefano Ligi. All'interno della festa abbiamo l'animazione di tiro e molla e la culo band e tutte le nostre specialità da gustare. Vitellone allo spiedo, maiale allo spiedo, fiorentine, bistecche, grigliata, chi più ne ha più ne metta. Insomma qui è veramente un tripudio di carne in tutte le sue sfaccettature. Allora noi li lasciamo perché hanno veramente tanto da fare. Grazie, poi dopo noi stasera faremo anche uno speciale che presto vedete su Fanotv dove faremo vedere tutta la vostra opera. Allora se riusciamo, intanto io mi allontano con l'operatore Filippo Pucci, se riusciamo a far vedere dove lavorano i ragazzi qui sotto al tendone c'è veramente un vero plotone, una vera brigata di cucina che tra carne, la porchetta, insomma veramente c'è di tutto di più. E qui il palato, anche quello più sopraffino, naturalmente avrà di che gustarsi. Allora noi intanto, siccome è un villaggio questo qui dell'azienda agricola Roberti, è un villaggio vero e proprio perché non si mangia soltanto, è stato creato un vero e proprio villaggio con tanti momenti di intrattenimento che sono ad hoc sia per bambini sia per gli adulti. E questo è tutto un po' il paddock che c'è qui a disposizione di quanti vengono. Laggiù in fondo ci sono i gonfiabili, c'è tutto quello che si può desiderare per passare una serata in spensieratezza e anche degustando del buon cibo. Laggiù vedete c'era lo spiedo del vitellone che ormai è stato consumato tutto quanto, però insomma la carne c'è, il tramonto c'è, è bellissimo, come potete vedere da Montecucco si gode un panorama stupendo. Qui vedo che ormai sono già al caffè, però insomma cerco di intervistare qualcuno. Allora come era sta carne? Era buonissima, io comunque ho mangiato la trippa. Ecco però insomma... Adesso digerisco con la moretta. Ecco, in pieno stile fanese. Lei ha mangiato la carne? Buonissima, buonissima. Qui non si sbaglia? No, mai. Non si sbaglia. Quindi siete degli abituati, siete venuti? Come vedete ci sono gli affezionati di questa grigliata in festa. Oh, laggiù in fondo c'è l'animazione di tiro e molla e più in qua, vedete, c'è anche un palco che si sta, insomma, tra poco animando e ci sarà la musica per tutti gli amanti del ballo. Ci sono anche dei momenti di aggregazione, dei momenti anche di solidarietà, c'è una pesca dell'Adamo, insomma, quindi è veramente un vero e proprio villaggio che hanno allestito qui nell'aia dell'azienda agricola la famiglia Roberti per regalare momenti, dicevo come prima, di spensieratezza, ma anche buon cibo e alta qualità. Marco, tu dicevi appunto uno sposalizio, un binomio veramente ben riuscito, l'olio d'oliva di qualità e la carne di altissima qualità. Bene, per questo è tutto, spero di avervi stuzzicato la fantasia, ma soprattutto l'appetito per venire qua, domani sera c'è un'altra serata a disposizione, restituisco la linea allo studio. Sì, certo, l'acquolina in bocca. Grazie Nino Balestra, è tutto per il telegiornale, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, e arrivederci a domani. Grazie 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 Grazie